Ti ricordi l'ultima volta che hai provato a comprare un divano come questo? Probabilmente sei andato in un negozio, hai parlato con un negoziante e alla fine hai scelto quello che volevi. Magari tra le altre cose di cui hai parlato con il negoziante c'era anche la possibilità di fare un finanziamento, in modo da pagarlo in diversi mesi. Ma ora pensa all'ultima volta che hai fatto la stessa cosa online. Sei riuscito a fare le stesse cose? Probabilmente sei riuscito a scegliere il divano, magari sei anche riuscito a parlare con qualcuno, ma molto difficilmente sei riuscito a fare un finanziamento. Fare un finanziamento online, al momento, è ancora una cosa estremamente difficile e sono pochi gli e-commerce che li offrono. Questo è il motivo per cui abbiamo fondato SoEasy. Vogliamo rendere i pagamenti rateali e digitali più semplici. In questo modo, chi compra su e-commerce può pagare comodamente mese dopo mese e gli e-commerce chiaramente vendono di più. Ma non siamo noi a finanziare questi prestiti. Permettiamo a una platea di investitori privati di investire i loro soldi prestandole alle persone, in questo modo guadagnando un rendimento tra il 4 e l'8%. L'anno scorso abbiamo permesso a 90 nuovi azionisti di entrare nel capitale di SoEasy durante una campagna di crowdfunding che ha raccolto più di un milione di euro in otto giorni. Anche grazie a questa operazione abbiamo continuato a crescere e nell'ultimo anno abbiamo quadruplicato i ricavi. In questo momento la nostra è la miglior soluzione sul mercato, almeno stando a quello che dicono i clienti che ci recensiscono ogni giorno. Ma la cosa più interessante è che siamo ancora in un'oceano blu di opportunità da cogliere, con pochissimi competitor da combattere. E questa è la miglior garanzia del fatto che continueremo a crescere così anche in futuro. Per continuare a nutrire questa crescita abbiamo deciso di lanciare una nuova operazione di crowdfunding in modo da scalare questo enorme mercato e arrivare a breakeven nel 2021. Con questo crowdfunding abbiamo anche l'obiettivo di attirare il maggior numero possibile di persone e competenze che ci aiutino ad attirare migliaia di e-commerce e migliaia di investitori. Investi e diventa anche tu proprietario di un pezzettino di SoEasy. Investi e diventa anche tu proprietari di SoEasy. Passi e diventa anche tu proprietari di SoEasy.